Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta in crema di ricotta e pesto di pistacchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono ricotta, pesto di pistacchi, aglio, olio evo, sale, pepe, granella di pistacchi e spaghetti. Andiamo via alla ricetta. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Mettere nel boccale l'olio e l'aglio. E facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio. Aggiungere la ricotta. Il pesto di pistacchi. Il sale. Il pepe. Ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 4. La crema è pronta. Condire la pasta, spolverizzare con granella di pistacchi e servire. Pasta in crema di ricotta e pesto di pistacchi. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie.